Il Comune di Vescara introduce alcune novità per rendere più agevoli il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Saranno eliminati disguidi o ritardi nella consegna dei moduli di versamento? Sì, quest'anno stiamo per inviare gli avvisi della Tari per il 2019 e abbiamo utilizzato il servizio cosiddetto F24 Zero Code. Grazie all'introduzione di un codice a barre, ha sottolineato Samanga, dirigente del settore tributi Maria Gabriella Polio, sarà possibile effettuare le operazioni di versamento del tributo in tempi rapidi. Sugli F24 che sono allegati agli avvisi di pagamento che mandiamo ai contribuenti c'è un codice a barre. Questo codice a barre è utilissimo perché consentirà all'operatore delle poste dove comunque l'utente va a pagare e di acquisire direttamente in maniera automatica i dati dell'F24, quindi senza più margini di errori rispetto al pagamento e quindi all'aggancio del pagamento e la posizione del contribuente. Inoltre ha sottolineato l'assessore comunale tributi Marco Presutti, grazie ad una convenzione con la società City Poste saranno consegnati gli oltre 60.000 avvisi di pagamento entro il 21 marzo prossimo, ovvero dieci giorni prima la scadenza per il versamento della prima rata. Da dopodomani, dal 6 marzo partono il parte recapito di questi avvisi, ricordo per la verità che ci sono 10.000 utenti che sono registrati che riceveranno via PEC, quindi sostanzialmente immediatamente in maniera sicura ci saranno quindi più di 20 giorni per regolarizzare. Per recapitare i moduli la società City Poste ha su un tot disoccupati di età compresa tra i 27 e i 63 anni a tempo determinato. La Tari per il 2019 nel comune di Pescara, come già riferito, ha subito un aumento del 3%.